Prima di partire con il video vorrei fare un ringraziamento speciale ad Aria per la realizzazione della mia nuova sigla, grazie ad Aria! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year Buon anno! Ragazzuoli sono tornato! Sono tornato dopo essermi fatto una bella vacanza, riposarmi il Q senza fare video Sono tornato per rompervi le balle ogni giorno da oggi, siete felici? Credo proprio di no Ragazzi nuovo paio di occhiali, nuovo paio di occhiali, ormai mi sembro Favij, Favij ce la con i cappellini e io ce la con questi occhiali Ormai basta, ormai farò la collezione degli occhialini, in ogni video mi vedrete con occhialini nuovi, devo ordinarne un sacco La moda dello storto ma non troppo sono gli occhialini diversi, ho deciso Ragazzi tutti pronti? Domani alle ore 15 ci sarà il mio primo torneo su Clash Royale Il torneo sarà da 10.000 gemme, quindi mi raccomando domani tutti i presenti sul mio canale alle ore 15 con la diretta live 10.000 gemme! Non fatemi gridare perché sto morendo dal mal di cola Vi voglio chiedere per iniziare l'anno ragazzi di commentarmi qui sotto con cosa vorreste vedere per quest'anno Quindi qual è stata la rubrica che vi è piaciuta di più, tipo start vs food, gli scherzi telefonici, i prank oppure gameplay oppure quel cavolo che vi passa per la testa Scrivetemelo e ditemi quale vi è piaciuta di più, così cercherò di portarvene ovviamente di più di quello che sceglierete Ecco, vi voglio augurare di nuovo un buon anno e preparatevi perché sono tornato Ciao ragazzuoli, un saluto come sempre dal vostro, storto ma non troppo Ciao ragazzuoli, ciao ma quanto sono figo posti a chiedere, troppo bello Storto, anche troppo, scemo, matto da legare, no, sì, tu sei da denunciare, adesso non esagerare